Mi sono arrivati dei nuovi costumi bellissimi e ora li proverò insieme a voi Questo video è in collaborazione con Capshi, una marca di costumi molto bella e in realtà quando mi hanno fatto la proposta di fare questa collaborazione ho rifiutato perché era un po' diverso fare un video di costumi d'inverno secondo me però poi ho accettato perché io vado molto spesso a Ischia d'inverno alle terme visto che abito a Napoli quindi sì ho accettato per fare questa collaborazione E sì ragazzi questi costumi sono veramente favolosi, la qualità è ottima, essi mi piacciono tantissimo e se volete vedere il link del sito ve lo lascio tutto quanto qui sotto nell'info box pure se volete vedere anche il link dei costumi che ho scelto Ok iniziamo con il primo che devo dire che è proprio uno dei miei preferiti in assoluto anzi è il mio preferito, è bellissimo e mi sta anche benissimo e ragazzi le confezioni sono anche molto belle che si possono anche tipo conservare tipo tu vai in piscina e puoi rimettere il costume bagnato nella confezione e poterlo mettere di nuovo in borsa e sì è molto comodo e carino, è veramente troppo bello e vabbè adesso vi faccio vedere un po' il costume eccolo qui è veramente bellissimo è pure monospalla è troppo semplice con questo tessuto troppo bello la qualità è proprio ottima e mi sta troppo bene è proprio il costume che mi sta meglio mi sta benissimo e mi piace troppo poi la semplicità in persona e sì mi piace da morire è il mio preferito ok adesso invece vediamo questo qui che è sempre troppo bello sono tutti veramente bellissimi ragazzi dovete vedere questo sito veramente bello ok eccolo qui guardate com'è carino è troppo bello è veramente stupendo e vabbè qua è tipo aperto che si vede un po' la pancia e sì è veramente troppo bella lo stile è proprio tutto suo è veramente straordinariamente bello e colorato ok anche questo è stupendo anzi questo devo dire che con questo colore blu sta benissimo con i miei occhi e poi sono bianca di pelle quindi proprio è bellissimo su di me mi piace tantissimo e eccolo qui guardate com'è bello e sì è troppo bello è veramente particolare ma anche semplice con questo blu veramente è troppo bello mi piace tantissimo allora questo è molto bello veramente adorabile però mi sta giusto un poco grande perché visto che io sono una XS e sul sito ci stanno solo di taglia minima la S mi sta un poco poco largo però è veramente carino non è che mi sta male anzi mi sta molto bene però proprio poco poco largo però mi piace tantissimo è sempre molto molto carino ed ecco qui la parte di sopra troppo bello con questo colore tipo color pesca guardate dietro particolare molto bello con poi la parte di sotto guardate i colori sono veramente troppo belli questi frutti troppo bello e qua sempre con tipo i nostri di color pesca e mi piace tantissimo va bene ragazzi spero tantissimo che vi siano piaciuti i miei costumi secondo me sono uno più bello dell'altro e si va bene ragazzi se vi sono piaciuti oppure secondo me sto sito è proprio bellissimo vi consiglio di andarlo a vedere e vabbè ricordatevi che qui sotto nell'info box ci stanno i link dei costumi e del sito e vabbè se vi è piaciuto il video mettete tanti like e se volete iscrivetevi al mio canale ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao